Idioti, idioti senza cultura e senza sentimento, idioti loro e idioti quelli che gli hanno permesso di farlo. Parlo di quelli che hanno bruciato una copia del Mossaf, una copia del Corano davanti a una moschea in Svezia, non solo, poi dopo ci hanno fatto anche peggio su quello che era rimasto. Idioti perché non capiscono che il Corano non si brucia, non è possibile, il Corano è parola di Allah, data al profeta Muhammad, trasmessa da lui e contenuta nei cuori, nelle menti dei musulmani e inshallah rappresentata dai loro comportamenti migliori. Il Corano non si può bruciare. Il Corano è patrimonio di una comunità di un miliardo e mezzo e forse più di uomini e donne nel mondo che con i loro limiti cercano di viverlo e di praticarlo ogni giorno. Non si può bruciare il Corano perché non è carta, non è inchiostro che l'ho avergato sulla carta ma è tutt'altro, è un progetto, un progetto per l'umanità intera, un progetto di giustizia, di misericordia e di pace. Il Corano gratis è la nostra iniziativa da quasi tre anni ormai, ha distribuito sinora oltre 27.000 copie del Corano, della traduzione del Corano a tutti quelli che l'hanno richiesta e quindi continuiamo in questa maniera qua. Distribuiremo mille copie gratis per questa copia del Mossaf bruciata in Svezia. Mille copie a quelli che ce lo chiederanno con il vostro sostegno e si aggiungeranno alle 27.000 e oltre che abbiamo mandato sinora affinché la parola di Dio sarà più alta e la gente conosca e quindi capisca quello che alla Supra Natale Dio Altissimo vuole da tutti noi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.